facciamo figure di merda a questo decollo vediamo vediamo tanto fai vedere bene il giocattolino nuovo telecomando e drone spark dji ultimo modello tinta rosso nera perché il disgraziato tifoso milanista nome del drone sceva ovvio allora accendiamo ok un click e uno premonto e si è acceso ok no non vanno i due click non vanno mai si accendono le luci fagli un punto di riconoscimento facile metti un qualcosa per terra ma ormai siamo capaci il problema che come al solito perché è un attimo ma perché non è sincronizzato perché non si sincronizza neanche sto giro e no adesso andiamo a vedere se cosa c'è su perché luca non si connette adesso ma non è che devo fare ogni volta la stessa cosa è da delinquenti ma no start fly ce l'abbiamo che si andiamo vai take off guarda qua scusa intanto andiamo dentro a casa di luca adesso andiamo sul balcone guarda sei pronto c'è mio padre in sala eh c'è tuo padre manda alla casa di milo dai che c'è che c'è suo padre ce la fai ad arrivare a casa di milo e beh possiamo provare dai andiamo a casa di milo vieni qua che andiamo da tuo padre cerca il suo padre sul balcone in questo momento vai 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 e vai bene non ci credo che ce la fai ad andare c'è da qui però lo perdiamo che non lo vediamo ma no ma cosa perdi con il controllo così non perdi arrivi in un punto dove tu non lo vedi più ma non devi vederlo lo controlli da lì già ma è un drone cazzo no a parte che c'è tutti i sensori milo vieni a vedere allora io vado un po storto eh però sì sì ci vado no allora io lo vedo però faccio fatica a a capirlo guardando adesso adesso devo andare la tua parte destra ecco lì quindi devo andare un po destra prima ti comincia a dare il ritorno a casa poi il suo padre il suo papà è lì no no eh porca via zana a parte che sai che qua non so neanche dove cazzo è eh per questo ti ho detto adesso e tu fai ciao adesso scusami per il gesto tu li devi impostare il riconoscimento di sè Sì, ah! Mi ha detto che facciamo sempre. Mi ha detto che ci sono troppo. Ma che fanno partire. Io dò fiducia a Mario. E dice di guardarlo... Non so perché è diventato verde. L'opo, lobo, lobo! L'opo! L, L, O... E io dò il logo. Allora che ne ho saluto. Sono attivi per me. No, però vedi che mi inquadra. Ma qua tu mi fai decollare se schiacci. Cioè fa che lì la comandi dal coso. No, secondo me qua non è da caso. No, perché lui da lì gli dice gesto. Gesto, schiacciato. No, devi stivettivare. Attivato? Prova adesso. Vai, aspetta. Adesso va, adesso va verde. E allora andiamo. Sì, sì, va. Eh, ce l'abbiamo fatta. Bastava attivare l'app. Bastava leggere le istruzioni. Adesso lavoriamo. Vai, vai. Guardami. Per essere lento il movimento. Per essere lento il movimento. Però qua non ne abbiamo capito. È proprio vicino. È proprio vicino. È proprio vicino. Ma non l'ho comandato. È proprio quello strano. Adesso mi ha preso. Adesso mi ha preso. Ok, adesso mi ha preso. Lento il movimento. Lento e continuo. Ah no, l'ha riconosciuto col cappello. Vai via. Ma tanto quando tutti così se ne va. Fallo lentamente. Sempre lentamente i movimenti. No, è troppo veloce, Marco. È vicino, Luca. Se la fai girare di qua la mano. Fallo riatterrare. Vediamo se gli metti la mano sotto e se ti viene. Qua ubbidisce. Qua ubbidisce. Qua ubbidisce. È già qualcosa. No, già bisogna aprire l'applicazione. C'è la foto. No, no. È una fatta? Fagliene fare un'altra. Ancora? Proprio che vai in acqua. Vai in acqua. Non fai in acqua? No. Non fai in acqua. Vai. Vai. Vieni. Allora. Il cacchi sotto. Eh, lì è gatto. E' lì. Vieni. Stai facendo video o foto, Luca? Io video. Vieni. 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 Quante autonomia hai di batteria? 15